Anche quest'anno si avvicina la Pasqua e Roma si prepara a vivere una delle festività più amate con eventi scampagnate all'aria aperta e proposte alternative in musei e luoghi d'arte in caso di pioggia. Da secoli la Pasqua è legata anche alle tradizioni culinarie che, soprattutto nella capitale, trovano la loro peculiarità nella famosa e abbondante colazione pasquale alla Romana. Gli abitanti della città eterna infatti usano iniziare la giornata con un vero e proprio pasto tradizionalmente composto da ingredienti inconsueti. Sulla tavola imbandita infatti troveremo uova sode, coratella, torte salate, colomba, l'immancabile cioccolata e ancora la pizza pasquale e spesso una bella frittata di carciofi. Un pasto impegnativo dunque per cominciare la giornata che rispecchia l'antica tradizione cristiana di festeggiare la fine del digiuno prepasquale con ogni genere di ben di Dio. Per chi fosse sopravvissuto alla colazione da campioni, nella tradizionale Pasqua a Roma scatta il momento del pranzo, con primi, torte salate, asparagi e l'insostituibile agnello che a Roma si declina rigorosamente in abbacchio. Simbolo della resurrezione poi a fine pasto, ecco arrivare in ogni tavola l'uovo ricco di sorprese e portatore di rinascita per una giornata da vivere all'insegna della gioia.